Siamo qui oggi in stampo tecnica per il primo evento di un nuovo format che il Club Digitale ha ideato per questo 2022. Si chiama Open proprio perché vuole portare l'Open Innovation all'interno del nostro territorio, della nostra associazione. Cosa intendiamo per Open Innovation? Per Open Innovation intendiamo un evento, un confronto sui bisogni quotidiani delle imprese che ci ospitano. In questo caso si parla di dati, di integrazione di processi per il settore plastico. Dobbiamo imparare a leggere i dati, dobbiamo imparare a lavorare con i dati e dobbiamo imparare a comunicare i dati. Dopo che io ho preso i miei dati, li ho catalogati, li ho combinati, dopo li devo raccontare. Fra una tecnologia mediocre e una raffinatissima, dice Mantellini ma con lui anche altri, scegliamo quella che ci fa stare nella zona di comfort e la qualità deve decidere che cosa mi offre oggi l'opportunità digitale che è anche un po' una sfida alla mia comfort. Come gruppo GMP abbiamo accettato molto volentieri questa proposta del Club Digitale perché crediamo molto nello scambio associativo, nella possibilità di ibridare un po' le nostre esperienze e di confrontarci all'interno dell'associazione. Con lo stesso prodotto si è riuscito ad avere la stessa stabilità di stampate, la stessa qualità nell'arco dell'intero anno e questo ovviamente lo si ha solo se si ha un dato tangibile e anche una base di dati abbastanza imponente. I sistemi oggi in commercio che fanno questo mestiere sono quelli che ti permettono di avere un database unico, di fare lo sforzo di interconnettere tutti i dati dei vostri impianti. Il perché quindi connettere le macchine? Abbiamo una visione d'insieme di tutto il mio processo costitivo o almeno di quello che è il mio core business. Mi ha fatto piacere ospitare questo evento perché trovo che tra imprenditori nonostante tutti gli impegni che ci attraversano quotidianamente debba esserci anche un momento di confronto perché ci si arricchisce di esperienze differenti e si mettono in comune le varie difficoltà e le aspettative che le nostre aziende sempre hanno. L'arricchimento che si ottiene da questi incontri mi fa pensare che sono appuntamenti che se possibile meglio non mancare.